SONO PER STRADA Sono per strada, ho appena attraversato il checkpoint. Tuo figlio come è andato in ospedale senza di te? Vive con sua madre nella parte israeliana. Mustafa, Mustafa, adesso basta. È solamente colpa tua. Continui a rifiutarti di prendere i documenti israeliani. Non voglio i documenti! Sogni d'oro. Oh, adesso basta, ragazze. Ciao. Ciao. Vieni dalla Germania? Sì, da Berlina. Oh. Devo confessarti una cosa. Ti ho detto di fermare la macchina! Aprile, aprile il bagagliaio! Guarda questi maledetti. Ti stai comportando in modo irrispettoso! Irrispettoso! Non parlare di mio figlio! Io irrispettoso! Io vivo questo inferno tutti i giorni! La mia famiglia è a soli 200 metri da me dietro a questo cazzo di muro!